Ecco le parole della giovane ballerina nel post diretta del Grande Fratello Ieri sera, lunedì 23 settembre 2024, è andata in scena su Canale 5 a partire dalle ore 21.35 la terza puntata della nuova stagione della trasmissione Grande Fratello Alfonso Signorini, accompagnato in studio dall'esperta social Rebecca Staffelli, dall'opinionista Cesare Buonamici e dalla new entry Beatrice Luzzi, ci ha guidato in una prima serata ricca di emozioni e colpi di scena Nel post puntata della trasmissione la giovanissima e bellissima ballerina Shaila Gatta, sembra aver definitivamente fatto la sua tra Javier e Lorenzo, come faccio a non baciarlo? Piano piano ci stiamo iniziando a toccare Noi non è che ci tocchiamo facilmente, c'è questa roba fra me e lui di scappare, uno di qua e uno di là Ci evitiamo, secondo me siamo molto simili su questa cosa, ho timore ad aprirmi con una persona che mi può interessare E anche lui secondo me è così, come glielo diciamo a Lorenzo, ma Lorenzo lo sa, ragazze Io ci ho parlato con Lorenzo stasera, ho parlato con Lorenzo e con lui Io sono sempre molto trasparente, e ho scelto lui, sì, la ragazza ammette però che è presto per un bacio, ma no, è presto per un bacio Io quando sto fuori mica subito bacio le persone, io bacio lentamente, aspetto qualche mese Tu per baciare una persona devi creare una confidenza, un contatto Per me non era una scelta, io mi sentivo attratta da due personalità Perché comunque a me anche Lorenzo piace, ma in un modo diverso Con lui non c'è quella cosa che ti scatta